14 anteprime tra commedie, film d'autore, documentari e pellicole di genere e un omaggio a Godard. Torna per la 14esima edizione il France Odeon, Festival del Cinema Francese, dal 28 ottobre al 1 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze. Come di consueto sarà presentata una selezione del Cinema d'Oltralpe, alla presenza di registi, attori, produttori. La novità principale di quest'anno è il film Passion Cinema, prodotto proprio da François Odeon. 23 testimonianze dei principali attori italiani e francesi, tutti legati indissolubilmente ai due cinema. Il film sarà trasmesso domenica 30 ottobre alle 19, molto più di un documentario. Se pensate alla parola documentario, andate non sulla buona strada. È il racconto di un'irrefrenabile storia d'amore tra i due cinema.